Mario contro Mario non è la versione moderna di Kramer contro Kramer, il famoso film degli anni 70, capace di vincere 5 Oscar, anche perché qui non ci sono in palio 5 statuette, ma al limite 5 anni di presidenza della Regione Calabria. Da un lato il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, dall'altro il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, nel mezzo una serie di schermaglie che potrebbero anche confluire a breve, tanto per restare in ambito cinematografico, nella sfida finale. La vicenda legata all'abbattimento dell'ex Jolly Hotel riporta subito alle polemiche per la realizzazione della metro leggera di Cosenza, un capitolo quest'ultimo che sembrava chiuso ma che potrebbe riaprirsi a breve. Uno degli scontri ancora in corso riguarda poi la costruzione del nuovo ospedale di Cosenza ed è battaglia sulla location, come sempre opinioni diametralmente opposte e la ricerca di una convergenza per un'opera necessaria alla salute dei cittadini. Il tutto in attesa che Palazzo dei Bruzzi si pronunci in merito, uno scontro che potrebbe riproporsi poi alle prossime elezioni regionali e quello non potrà che essere eventualmente l'ultimo perché, come una sorta di Highlander, politicamente si intende, ne rimarrà soltanto uno.